Grazie alla Roma abbiamo passato un Natale straordinario, passeremo anche il primo dell'anno in maniera straordinaria e poi dal 5 si ricomincia a menare le danze. Perché se qualcuno pensa che la Roma poteva essere un fuoco di paglia, credo che abbiano già capito che l'aria non è esattamente quella. Al di là di tutto, sicuramente la Roma contenderà un posto in Scempion e poi vediamo, perché non è che le disgrazie capitino soltanto alla Roma. Capitano anche agli altri, ma siamo a Natale, non si deve, non si può parlare assolutamente di tutto questo. Però, dico bene Lamberto, cosa dire però? Quando mi dà queste imboccature, Francesco Goccia, poi noi lo ricordiamo che il giorno 5 siamo in radio, 101.05, dalle 8 alle 10 tutte le domeniche mattina. Te rompo le scatole pure a te, perché Minozzi pensa che è di starpeggio. Allora, vi stavo dicendo di quanto sta facendo la Roma, delle situazioni che ovviamente si stanno evolvendo. Si parla già prima dell'inizio dell'anno nuovo di passi importanti per quello che riguarda l'acquisizione della Roma. Intanto va ricordato che se questa Roma è diventata appetibile è perché magari è sempre stata tenuta in maniera più che decorosa. Potrei dire che se in alcune occasioni ci fosse stato meno malaffare e più dignità e lealtà sportiva, probabilmente la Roma con una finale di Champions la sarebbe fatta. E quantomeno due anni fa magari si andava anche più avanti che non arrivare ai quarti di finale. Però, siccome le chiacchiere, come sempre, stanno indietro, non seguono i fatti, non danno ragione a queste situazioni, che in un modo o nell'altro... Dimmi, dimmi, dimmi... La bottiglie... Che c'è che non va? Ah, ma... Scusami. Ma hai scoperto che cos'è? Gabriele, ho capito, tu prendi la cagnotta, ma dai, mi fai fare queste figure. Gli ha detto male. Gli ha detto male. Ha provato, gli ha detto male. Ti rovinano tutto. Allora, stavo dicendo che chiaramente al di là di tutto la Roma è una grande squadra, ha un grandissimo allenatore, quello di cui vi parlavo. Adesso sono tutti padri, come sapete, no? La vittoria a tanti padri, la sconfitta è orfana, però voi sapete bene che fin dalla prima puntata di fine agosto vi parlavo di questo Fonseca, vi parlavo di questo Petrachi, poi i fatti, nonostante tutte le chiacchiere dei Beceri, hanno dato ragione al sottoscritto, perché poi andate a vedere le puntate di cinque mesi fa, quattro mesi fa, e vi rendete conto del fatto. Però quest'oggi, siccome è una puntata proprio in tutta libertà, vorrei assolutamente che ce la dedichiamo tutti noi e ci viviamo la Roma, ci rivedremo i gol, il massacro che è stato fatto dalla Roma a Firenze e via discorrendo. Per cui parto con Lamberto Leonardi, immarcescibile, capitano di questa cordata, che sono gli Orazzi e Curiazzi. Fatelo un applauso, mi piace bene. Ma che figura, ma è Tonino, la colpa è di Tonino, lui è così. Di qui abbiamo Francesco Cuccia, ancora accanto abbiamo Antonio Fioravanti. Di fronte c'è un grande candidatore di quella che è la S-Roma, come Enrico Minozzi. Di là c'è Giacomo Spalletta, lui dice che deve fare il procuratore, ma sarà... lo fa, lo fa, lo fa, lo fa. Ho subito una clip per il 2005 della Roma, stanno guardando un ragazzetto della Viterbese, Giacomo Verdicchia, che saluto. Speriamo che approderà subito alla Roma. Eh, dipende da lui, perché... Sì, è vero, c'è. Petra Chico è... no, no. No, ha dato già la trattativa in corso tra Viterbese e Roma. Allora, vabbè, la buttiamo lì. Da quest'altra parte c'è Gabriele Marconi. Buonasera, buonasera a tutti noi, anche a lui, anche a voi. E' ultimo, ma non ultimo, c'è un amico della trasmissione, un grande romanista, si chiama Renato Ferrante, un grande fattore. E per di più, insomma, lo vedete, è la fotocopia sputata di Alberto Sordi, di cui lui è nipote, con la signora che è lì, e sono onorato, che ha avuto piacere di venirci a trovare, anche perché Renato, insomma, non perderà l'abitudine di venirci a trovare quanto prima. Di qua c'è Eleonora Chimma Monti, che è dalla Cracoglia, imperversa da tutte le parti, ormai Renato Monti canta da dove vuole. Qui poi c'è lei, Simona Novelli, e poi lassù, al di là del maestro, stavo dicendo Danilo Murzilli, ma in effetti è proprio lui, con la sua fisarmonica ed è lì. E poi c'è Riccardo Antonelli, che chiaramente ormai è la voce di Roma, è la voce che fu di Claudio Villa. Io credo che lui la stia reinterpretando in una maniera straordinaria, perché non è che imita. Lui ha quella voce che io adoro, in maniera straordinaria. C'è Cinza, la moglie, c'è anche Delfino Badacchiolo, là dietro, che piacere. E qui ci sono gli altri amici, c'è anche Vincenzo, gli altri lo conoscono come il Banana, che poi era il soprannome del padre, che è uno di quelli forti. E tutti gli amici che ci stanno guardando, anche la signora Tiziana, nonché moglie di Antonio Fioravanti. Dico bene? L'ho detto con grande classe? Sei meraviglia. Allora, ve li ho presentati, andiamo in pubblicità e ritorniamo volando e sentiamo cosa ne pensano loro. Ma noi stasera ci divertiremo. Pazzamco che sto bene con questo maione. Via! Salve, siamo a Roma, in via di Burtino 852 alla Resingham, dove facciamo madrassi per letti, divani letto. E sfogliate le napoletane, sono in modo... Le fanno anche a Roma, le cose. Ma ha fatto venire a tu, Gattuso, Gattuso, ma ha parlato dei Gattuso, non gliela faccio più, tu mi capisci a me, vabbè. Gattuso. Gattuso chi vuoi? Antonio, io... Ti in cieco dovevi parlare! Antonio, non ne parlo. Ma mi senti, a me, per esempio. Io a Luciano non gli ho detto niente, ma per me, tra Ancelotti e il Presidente è stata tutta una cosa architettata. Dici. Perché io non ho mai visto con la vigilia che si ferma il campionato e non manda via l'allenatore. Io non ho mai visto la cosa. E l'allenatore che già c'ha la squadra di Gattuso. Per me è tutto architettato. E lui c'è stato quel morto di fame di Ancelotti, tra virgolette. No, un Ancelotti. E c'è stato appare un bimbo del genere. Cinque anni che ho detto. Un milione e mezzo. Dici, eh, dammi questi perché altrimenti io te li sprofondo. No, vabbè, non ci posso credere. Può essere così? Allora, andiamo in pubblicità. Rientriamo con... Se sei d'accordo, Gian Piero Forti. Sei elegantissimo, Cassano. Rientriamo con Riccardo Antonelli. Ma prima leggine uno. Dedichiamolo a qualcuno. Buon anno a tutti voi e fortissimamente Roma. No, ripetere che non hanno sentito. Buon anno a tutti voi e fortissimamente Roma. Ciao, Leonardo. Che classe. Poi è arrivata una domanda per Spalletta. Posso leggerla, sì? Questo è il figlio che gli ha ramannato qualcuno. Domanda per Spalletta, che ride e sorride tanto. In questa sessione di mercato, quale reparto rinforzerebbe della AS Roma? Steve. Steve, che sarebbe tuo fratello adottivo. Steve, vuole sapere quale reparto tu. Che mani siamo capitati. Ma guarda, belle mani. Allora, innanzitutto, io parto a gennaio, non si fanno grandi colpi, almeno che non serve poco qualcosa del genere. Ah, vuoi rispondere a corto. Mi fa il cappello, la premessa, tutto quanto, mi fa bene, no? Allora, io innanzitutto dare via subito. Fazio. Diego, è che sei d'accordo con lui. Fazio e Juan Gesus. Chi? Fazio e Juan Gesus. In maniera tale che mi levo due ingaggi pesanti. E libero un posto d'estra comunitario. prenderei un difensore centrale che c'è la Croix del Saint-Etienne a zero e ha un ingaggio. Non prendiamo il brasiliano perché teniamo Calinic che inseguina, poi? No, no, poi dai via un der che ormai per me... Ormai è arrivato, eh? No, non è che è arrivato, non è continuo. Ecco l'altro che vedrete quando arriva il campionato. Sì, ma magari mi sbaglio, sarei contento di sbagliare. Sì, ma non è continuo perché ha sempre qualche fastidino al muscolo, ha infortuni. Volevo un romanzo, chiamavo lui, no? No, e andavo. Va bene, eh? Ma io mi andrei a prendere. Va bene, andiamo. Preto della Vega, che lo pago 10 milioni in tre anni. Falletta, basta, ora vado in pubblicità e continuiamo a parlare. Andiamo in pubblicità, poi rientriamo. E poi, mi fate andare in pubblicità e poi chiacchierare. Poi, se sei d'accordo, Gian Piero Forte, è un privilegio averla qui, lo sa? È un privilegio. Andiamo, andiamo. Andiamo. Ah, glielo davo io. Tanto stasera viene anche Renato Ferrante, che come tu ricorderai bene, è il nipote di Alberto Sordi con la signora, per cui stasera ci divertiamo. Spero che venga anche Gian Piero, non lo so, dipende da come sta messo. Però, se siamo noi per fare una bella tavolata, stasera ci divertiamo. Tu chiaramente ci canti con un gettone tutto quello che ti pare. Va bene, d'accordo? Gettone da Napiotta, quella cento lì. Sì, certo. Io sono rimasto a quello. No, non vuole che poi mi ti allarghi. Lei c'è, Eleonora? C'è pure Eleonora, lo siamo fatti. Allora, detto questo, mi dici perché uno deve venire da te. Io dico una, la proforma è che si mangia bene e si spende giusto. Non voglio dire poco perché è la roba buona, però come si mangia da te con otto euro, nove euro a mezzogiorno. Ho visto gente che fa il circolo delle sette chiese per venire a mangiare da te. Dimmi perché uno deve venire da te, Alberto. Io lo so. Se venite a pranzo trovate il nostro buffet limitato a nove euro, quindi è un'occasione per fare un break, una pausa pranzo dal lavoro o anche per uscire con gli amici e non spendere un capitale al pranzo e quindi venirci a trovare. E la sera perché abbiamo tutto il nostro ristorante aperto, cioè la nostra pizzeria con il forno a legna, con il nostro Ala che fa delle pizze eccezionali, tutti i fritti fatti in casa. Abbiamo i primi piatti, i primi piatti. Gianni prepara giornalmente gli gnocchi, i ravioli, i cacio e pepe che facciamo col tartufo fresco. Abbiamo i tagliolini, i tonnarelli, assaggiate ad esempio il nostro tagliolino alla carbonara col tartufo piuttosto che il tonnarello cacio e pepe con prodotti carciofi grossati. Ricorda il menù per Capodanno? Allora Capodanno... Al volo eh, non mi voglio solo che mi riduo di chiore. Fortunatamente il locale già tutto è sold out, però è una bellissima serata dove ci saranno dei raglioli di burrata, i tonnarelli con la crema di carciofi e ricotta, con guanciale di cinta cenese, la ragliata di manzo, il mille foglie di patate e cicoria. Scusa, che ti avevo detto? Prenota che è pieno, prenota che è pieno. Maestro Murzilli, gli ho detto prenoti che è pieno, non mi ha voluto ascoltare. E sold out ormai da una settimana, diciamolo a tutti, sei l'unico, oh, sei l'unico, perché come si sta da te, non si sta da nessun'altra parte. Quasi come a casa, l'ho detto tutto quanto. E come finisce poi il dessert? Barrettore, com'è? Abbiamo il dessert di buffet dei dolci, ci sarà il cotechino con le lenticchie, la spaghettata a fine serata verso le due di notte, spaghettata aglioio. Pure? Vabbè, mi toccherà venire solo per lo spaghetto di mezzanotte. Porca miseria. Allora, ricordate Alberto De Veo, ricordate le streghe, poi voi sapete che ormai è il mio ristorante, che quando dici streghe dice, ah, De Bartolo sta lì, sì, sto lì, sto lì d'Alberto, va bene. È vero, eh? Io ho l'ufficietto lì, è vero, me l'ha fatto Alberto. Allora, 76-74-777, questo è il numero telefonico, non per prenotarvi per il 31 che siamo pieni, oppure troviamo la maniera di chiudere via Tuscolana, quel tratto lì davanti a te, e mettiamo qualche tavolo, no? Eh, tanto si sta bene all'aperto di Capodanno. Eh, questo dì, tra i botti, la cosa e l'altra, senza sovrapprezzi, eh, anche se gli dai lo spettacolo pirotecnico insieme. Detto questo, ti voglio bene Alberto, tanto tutti quelli che guarderanno anche la replica, ovviamente sul nostro sito, guarderanno tutto quello che è, sentiranno la tua voce, che è quasi migliore della mia. Ti voglio bene Alberto Depeu, ci vediamo più tardi. A dopo, in approfitto per fare... Gli auguri ce li facciamo dal vivo. Via Tuscolana 643, andate, Alberto, andate pure dopo, ci facciamo un brindisino. Ci facciamo un brindisi dopo? La vedo un po' giù. Cosa ha fatto? La prego, no? Voleva farlo anche lei dopo? Io la faccio cantare subito perché... No, glielo dico io, no. Perché se lei adesso mi suona, ah, se loro si stanno zitti viene pure meglio. Abbiamo tutto il pubblico che sta sentendo e seguendo quello che è. Se tu canti dopo, suoni dopo, magari qualcuno ha fatto zapping e si perde qualche battuta. Questa è l'unica realtà, appunto. Però te voglio sedeno, eh, te vedo un po' stravoltello. Assolutamente. Sono malalingua. In forma. Meno male. Allora, vai, che cosa fai? Eh, un brano è di Giuseppe Verdi, scritto nel 1842. Che cantavano gli egiziani in Babilonia. Sì. L'opera il Nabucco, la terza parte, l'aria, va pensiero sulla litorate. Hai capito? Va pensiero sulla litorate. Come l'ho inconata? Sì. No, non mi dà st'idea, non mi dà st'idea. Il maestro Murzilli e la sua fita armonica. No, non mi dà st'idea, non mi dà st'idea, non mi dà st'idea. Volevo ricordare l'agenzia investigativa di Stefano Marani, se Leo mi conforta anche con le immagini, perché se avete dei problemi, avete dei pensieri negativi, pensate che qualcuno vi sta truffando, fregando, non siete certi di come vanno le cose nella vostra azienda, nella vostra attività. Stefano Marani è un luminare. Tant'è che giornali importanti come il Corriere della Sera, quando ci sono delle cose da poter comprendere l'andamento, si rivolgono a lui che è in grado, come pochi, vedete tutto quel parterre di gente che fanno parte di tutte le forze di polizia, finanza, carabinieri, polizia di Stato e altro, e ha un parterre di gente capace. Quelli sono i numeri telefolici da formulare per qualsiasi dubbio, anche se volete dire come posso risolvere i miei problemi. In qualche modo trovate qualcuno che vi risponde e vi indicherà la strada giusta per poter dormire tranquilli. Stiamo parlando di un parterre di professionisti come pochi, anche per quello che riguarda le frodi assicurative, se vi stanno fregando e via discorrendo. Stefano Marani è veramente uno che viene ricercato, sia in Italia che in Europa, per le capacità che ha avuto e che ha ancora oggi di darvi. Fa fuori il Cagliari, che non ci fa una cortesia, così non se ne parla più. Il buon presidente aveva detto che andava a Udine a vincere dopo che era stato scippato dalla Lazio, ma non mi pare che sia andata così, mi pare che sia andata in un senso contrario. È l'Atalanta che ci deve preoccupare. Esatto, in fase calata. Bisogna preoccuparsi dell'Atalanta perché l'Atalanta sicuramente da adesso fino a febbraio che riprende la Coppa ricorre come una dannata e quindi può recuperare dei punti e può tornareci sotto. Mentre lo scontro Napoli-Inter è interessante perché a questo punto Napoli può pure non fare risultato, tanto punta tutto sulla Coppa dei Campioni. Però anche lì può portare punti all'Inter. Vabbè, punto. Quindi, diciamo, si prepara alla Coppa dei Campioni perché il distacco è tale che non può non può sperare in granché. E allora ci può togliere punti all'Inter. Quindi, effettivamente, è brutto dirlo perché la Roma quando fai questi pronostici e programmi Ma è un'altra Roma, Chiesa? È un'altra Roma. Ma la partita dopo c'è Napoli-Lazio. Ragazzi? Lazio-Navoli. Ti faccio il pervenimento. Quindi tu dici Napoli due battute d'arresto non le può fare con l'Inter e con la Lazio. Può fare un premio e due pareggi. Però quello che ti voglio dire è che io sono sempre preoccupato quando il calendario ti è favorevole. Ti è favorevole. Per esempio, noi abbiamo fatto la grande partita con la Fiorettina perché stavamo con l'acqua alla gola e abbiamo fatto cacciare all'allenatore. Magari se vai a Firenze ed è una partita tranquilla non tiri fuori tutto quell'agonismo per tirare fuori. C'è la paura di dire e di pensare che questa è una Roma diversa dalle ultime Rome che abbiamo visto. Credo che questa sia assolutamente la più convinta, la più determinata, la più forte secondo me. Per cui questi timori di costo e capitate. credo, bravo, credo che con Fonseca e tu hai calcio, certo lo sappiamo. Calcio c'è una sola regola, non ha regola. Scusami, un attimo Lamberto, faccio una battuta e ricominci e continui, senza problemi. Quando una squadra vince otto campionati di seguito, che non era mai successo, può capitare di tutto. Lamberto. Io dico a un certo momento, poi bisogna vedere come tornano da questa, dieci giorni, dieci giorni, ma dove sei mai visto? Io so che stanno lavorando tutti. Lì dipende a un certo momento come trovi le squadre, ma non è semplice ragazzi, pensate bene, pensate bene. Lui ha ragione. Pensate bene. Non posso dare una chicca nuova, una chicca nuova è che sicuramente anche fuori c'è chi controlla i ragazzi. Che te va a controllare? Non è come... Ma quello va a Dubai, andò, quello va a Dubai, quell'altro lato è qui, che te va a controllare? Guarda che stanno lì a due e stanno lì col preparatore della Roma, non è esattamente così. Io non so. Anche, ma no, Fonseca, 4-5 li controlla, poi si vede, no? No, no, questo no, però credo che uno come Fonseca, se c'è qualcuno che non ha fatto quello che doveva fare e se ne accorge, magari copia ben orecchio. Questa è la mia presunzione, se non lo fa, lui lo fa Pedraghi, io ne sono certo, per lui, credo che l'aria sia un'altra. Però ha ragione Leonardo. No, devi parlare con me. No, non è che stai al cinema qua. No, te lo dico a Spallone. Quando rientro ci sono subito i testi. E vede subito se quelli hanno fatto i gol. E io che cosa ho detto? Quello che io, stavo ribadendo quello che hai detto te. Allora, volevi dirlo prima, cazzarola. Eh, una volta ti ho ragione. Poi posso dare una comunicazione di servizio. Io ho sempre ragione. Di. Allora, perché tanti mi chiedono per quale motivo... Ah, che vuoi finire quella? Per quale motivo Roma e Lazio, l'ultima di andata la giocano a casa e l'ultima di ritorno fuori casa. Perché si deve preparare l'Olimpico per gli europei del 2020. Cioè, così diamo anche informazione a tutti gli aspetti del 2020. Quindi al ritorno non ci saranno due partite fuori casa? No, al ritorno la Roma giocherà due partite fuori casa. Perché l'ultima partita la giocavano in casa. Che c'è? Niente. Due partite in casa adesso, due partite quando magari ci sarà il full contact o meno del campionato. E' tutte e due a Torino poi, eh? Tutte e due a Torino. Così si espostano. Così non si espostano. Allora, stavi dicendo, stavi dicendo che stava parlando la battuta? No, stava parlando Giampiero. Stavo dicendo che comunque è un fatto di professionalità perché tu puoi controllare il peso. Sì. Puoi controllare... Eh, ma non è più come giocabile. ...che la reattività. Però dipende dalla vita che hai fatto perché quanti stravizi nella notte... Ma se ti do il mio esame... Sì, tutti. Scusate. Ma per questo è il problema. A questo diciamo. Ragazzi, oh. L'intogno di chiassa. Allora, stavo dicendo che io ho fatto gli esami. Oh, ho fatto gli esami una settimana fa. Hanno detto pure... Hanno preso pure quando ho preso la camomilla, quando l'ho presa oggi. Io stavo dicendo la stessa cosa. Oggi stanno tutto. Hanno pure visto quante volte si è andato con tua moglie. Sì, oggi stanno tutto. Non credo. Quante volte si è andato con tua moglie. Non lo so. Quando quello non ha mai influito. Quello non ha mai influito. Senti, sei il giocatore per farmi ridotto. Non ha mai influito, Gian Piero. Questa era una promessa. Ti prego. Ma non ha mai influito. Anzi, a me mi dava più voglia. Ma litiga con me. Non devi litigare con lui che urla. A me mi dava più forza. Lasciamolo perdere Giampiero quando stavo in incontro. Inghilterra prima di... Oh, quando scherzo, scherzo. Poi, mo' plane. Tu ricordi, Gino Bravieri, che becchiotto. E mo' mo' plane. Allora, detto questo. Uno, ammazza di... Chi è che ha giocato a pallone? Io. A un certo livello. A un certo livello c'è del lui. In questi periodi, quando ci sono... Lui ha giocato a racchette, ti sa. Succendo delle cose strane. È inutile che dite. È vero. È vero. È vero. Oh. Allora, che abitavo... 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 Abitavano... Abitavano... E quindi a un certo livello. Voglio dirlo. A volte andavo anche in terrazzo. Aiutami, ti prego. Signore, fai la Roma più forte che magari le gonfia tutte come una zampogna. Aiutami. Chiedo solo un desiderio alla sorte. Te stai zitto, mo. Mi fai lavorare. Mi fai lavorare. Dai. Ciao, Mitici, Orazio e Curiazzi. Sono Simone e vi seguo sempre da Pagliano Giallorossa. Sì. Quattro vittorie nelle ultime cinque partite. E come diceva il grande Corrado, non finisce qui. Non finisce qui anche perché l'ha fatta poi in esterna, per cui è tutto dire. Siamo d'accordo su questo? Riccardo Antonelli, la prego, venga. La prego, venga. Pagliano Giallorossa. al numero 32. Andateli a trovare perché vale effettivamente... Chi è che sta a parlare? Pagliano Pollo. Prego, venga. Sono solo Pollo. Non ci vanno, sono negli. No, non sono, sono per me. È uguale, non per me. Au, vai che sta al mercato. Non hai capito? Cioè, tu non vuoi più venire qui nella mia trasmissione? Promettilo. Se vuoi lo prometto. Vuoi questo? Vuoi dare la mano per dire ok è fatta? Non vuoi più venire? Au, peggio. Peggio perché a tente posto me n'ha, a lui sì, almeno mi sfogo con lui. Allora, detto questo, che ci fai? Un brano classico della canzone romana, per lungo tenere. Per lungo tenere, la dedichiamo ovviamente. Au, peggio. Va bene, se sei d'accordo, anche un po' a Gabriele Marconi, a Enrico Minozzi, a Lamberto Leonardi, a Francesco Goccia, vabbè, Fioravanti, pure a Fioravanti, non sta lì. Poi Spalletta e poi Renato Ferrante, se no questo ruba, io sono qui, sornipute, non mi fai sentire che dedica la canzone. Con una promessa che però... Torna qua giovedì prossimo. Anche questo, ma fate il coro. Sì. Come dici te, se non ci crediamo, che campiamo a fare? Ve lo sono d'accordo. Vai sempre, cazzarola. Io credo nella Roma e credo che le Longobardi devono sottopare prima o poi. Mamma mia, tutte e due un'altra volta. Ma che state male? La Longobardi. Ma a due ricominciamo, ma che morire fa morire qua? Pronto? Dai, ma non si è fatto il lavoro. Rialzami il murale. Non hai capito la battuta? No, no, no. Guarda che era il presidente... Al 27 non siamo a fare. Chi era il presidente della Longobarda? Fanto lo dite a lui. Sì, abbiamo trovato... Io credo al cento per cento... No, voleva fare la battuta nel petto sul... Oh, no, no, no. Non c'è un successo dalla Roma, non che dica il campionato, eh. No. Non sono pessimista. No. Però comunque vadano le cose, io ho la Roma nel cuore. Non avevo dubbi, tanto sarei qui il 2. Allora, detto questo, saluto tutti gli amici che ci sono venuti a trovare, pure quelli che non ci sono, quelli dietro le cose, da tutte le parti. Fate un anno, un buon anno di quelli importanti. Il 2 giovedì noi saremo qui e ricominceremo a parlare, giocando e scherzando, ma in maniera più seriosa, di quello che sarà l'evento dopo tre giorni di campionato. E sarà una grande Roma, stringetevi al cuore. Grazie a Lamberto, sì Lamberto, Lamberto Leonardi, no, ma è perché ho cambiato i ruoli. Grazie a Enrico Minozzi. Un grande abbraccio a Gabriele Marconi, un grande abbraccio ovviamente a Gian Piero Forte, a Francesco Goccia che da domeniche 5 alle ore 8, tutte le domeniche, sarà insieme a me a condurre, ma senza essere da Roma, ma che campi a fa? Poi, fiora avanti, è qui, vero Tonino? Grazie, buono a tutti. Mi devo troccare, no perché ormai mi sono rimaste le unghie, non ce l'ho più. Spalletta, lei, iteme con patate, ma proprio fa... Arrivederci a tutti. È stato un piacere. Venga qui Danilo, la prego. Vi auguro veramente le cose migliori di questo mondo, perché in fondo ce lo meritiamo. Ma se non sei da Roma, ma che campi a fa? Non c'è più la... Dimmi, dal volo, dal volo. La, 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 la...